Premio Legalità 2021, noi contro usura e racket, questo il tema, Nicola Zinzi, coordinatore di SOS Impresa, la finalità di questa iniziativa? La finalità è quella di coinvolgere le fasce più giovani sul tema appunto della legalità, ma in maniera particolare sull'usura e sul racket, che in realtà è un fenomeno abbastanza diffuso purtroppo anche in Irpinia, come associazione siamo impegnati da diversi anni a fronteggiare purtroppo le vittime di questi reati che sono infamanti anche per le vittime stesse, perché spesso non hanno il coraggio di denunciare e quindi abbiamo pensato bene di istituire un premio coinvolgendo le fasce più giovani, scuole medie e scuole superiori, hanno aderito quattro istituti, ci sono pervenuti diversi elaborati, taluni anche abbastanza ben costruiti e quindi a loro poi verrà assegnata una targa particolare, ma ci siamo detti anche come associazione poi di dare comunque ad ogni partecipante, ad ogni allunno un attestato che possa portare alla memoria questa tematica. Quanto è importante coinvolgere i ragazzi, in questo caso gli studenti delle scuole nella lotta contro l'usura, contro il racket, che in Irpinia, come diceva Zinzi, comunque è una piaga significativa. Sì, è importantissimo perché noi perciò che l'abbiamo fatto, perché prevenire è meglio che curare, quindi noi stiamo facendo informazione nelle scuole e negli istituti che hanno partecipato e abbiamo spiegato un po' qual è la tematica, che è certamente una tematica ostica, non semplice da comprendere, però i ragazzi invece hanno ben compreso quella tematica e abbiamo avuto degli ottimi elaborati, veramente fatti bene e sorprendenti come elaborazione. Comunque il contenuto, il fine di questo premio è appunto fare informazione, per far capire già ai piccoli ragazzi, ai bambini, agli adolescenti, quali sono questi atti delinquenziali che invece vanno evitati.